Un vero e proprio ritorno a casa, quello della polizia locale di Andrea, che oggi ha celebrato la festa di San Sebastiano, protettore delle polizie municipali d'Italia all'interno della chiesetta del Purgatorio. Qui, in questa zona, nei pressi di Piazza Porta la Barra, nacque 143 anni fa il corpo della polizia cittadina di Andrea. Uno sguardo al passato per caricare di orgoglio e sfide il futuro di una struttura fondamentale per gli anticomunali con svariate funzioni che vanno ben oltre le semplici multe. Storicamente noi nasciamo proprio in questa piazza e questa era la nostra chiesa. Partiamo dalle radici per guardare nel futuro e siamo comunque consapevoli che il nostro futuro sarà un futuro migliore. Poco più di 15.000 le sanzioni nel solo 2022 con le più svariate motivazioni, come ci ha spiegato il comandante della polizia locale di Andrea, il dottor Francesco Capogna, dagli obblighi e divieti alle patenti irregolari o scadute, arrivando alle omesse revisioni, alla sosta a pagamento, alla circolazione senza casco sino al mancato uso delle cinture. Ma particolare attenzione è stata posta anche ai reati ambientali e dalle bice elettriche. Particolare attenzione a monopattini e bice elettriche con oltre 340 sanzioni, ma anche il tema ambientale a noi caro. E lì sono state elevate un numero importante di sanzioni, anche in questo caso oltre 300, ed è stato anche fondamentale l'avere individuato una serie di soggetti che realizzavano illeciti con rilevanza penale. E tanti sono stati anche gli incidenti stradali che nel 2022 sono stati accertati e refertati dalla polizia locale, 218 nel complesso sul territorio andriese, con due purtroppo mortali, mentre 134 sono quelli che hanno provocato comunque dei feriti. Il 20% degli incidenti sono stati rilevati fuori dal centro abitato, mentre motociclisti e pedoni più coinvolti tra gli utenti deboli del codice della strada. Il ruolo della polizia locale tuttavia non è solo quello sanzionatorio, ma anche di prevenzione, come ha ricordato l'assessore alla sicurezza urbana Pasquale Collasuonno. Quello che più ci rappresenta non è che la polizia locale è vista solo come repressione, con tutte le altre forze dell'ordine ovviamente, bensì anche come sotto l'aspetto preventivo. Quindi abbiamo avuto anche dei momenti di formazione nelle scuole, abbiamo avuto anche momenti di formazione degli istituti superiori, dove abbiamo fatto toccare con mano cosa succede in un incidente, cosa succede non rispettando le regole. Ovviamente è una città che va educata. La celebrazione di San Sebastiano è stata ufficiata dal Vescovo della Dioce, Simonsignor Luigi Manzi, che ha rimarcato l'impegno fondamentale delle forze di polizia. Un appello ad inizio celebrazione ha voluto lanciarlo anche Don Francesco di Corato, parroco della Chiesa della Santissima Annunziata, che ha chiesto il massimo impegno per un quartiere dal grande fascino storico, ma che ha anche diversi problemi da affrontare. Un impegno delle forze di polizia, come quelle locali, che deve però scontrarsi con l'organico, che ad Andrea conta un terzo degli agenti necessari. Noi come forza di polizia non possiamo permetterci scuse. Dove è necessario, dove c'è l'esigenza di portare sicurezza, dobbiamo, indipendentemente dei numeri, e posso assicurare anche che il mio personale è un personale altamente votato al sacrificio, alla benegazione, ai valori fondamentali del nostro ordinamento. Ne sono testimonianze i tanti progetti che sono stati svolti in queste giornate, in questo anno, e che hanno visto gli agenti della polizia locale sopportare un sacrificio anche di lavoro enorme, in alcuni casi anche 15-16 ore di lavoro giornaliero.